Ed eccoci qui amici, un'altra puntata di Fanny Moon, Fabrizio mi ha dato appuntamento qui, siamo in Piazza del Popolo, a Roma c'è un casino di gente ma lui non lo vedo, non ho capito che sta succedendo, penso... Vedi guarda che c'è scamo, c'è sta schi, a lei è quella di schi, ma non sono di schi o forse volevate dire sky, sicuramente... Schi, schi, proprio schivola oggi, assolutamente no, non lo volete scappare bene o... Aiuto mi stanno... Ma io a voi l'ho già visto, mi sembra proprio su Fanny Moon in qualche servizietto che prendiamo da internet... Fizzi e tifati... Vabbè ma noi siamo arrivate eh? A noi ci chiamano mai per i paesi, a Ricci e a Frecciane, proprio andiamo tutta gallara... Senti buona cosa ma... Sì siamo noi comunque, siamo quelle di Ostia, quelle di Calippe... Ma quindi sono tutti qui per voi, non sono per l'evento cattolico italiano... Ma c'è un sacco di fanze, guarda i fanze, guarda i fanze... Ma non ci credo, ma sono le Calippo Girl... Calippe, 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 Calippe... Vabbè ma allora questo è un grande evento, scusate eh... Vabbè queste sono le fanze, abbiamo fatto uno sbaglio... Ho mandato un messaggio su Facebook... Io e Deborah, amica mia... E abbiamo detto... Dammo un appuntamento a tutti questi pischelli no... E diamo la maglietta... Ho scritto dalla panda te pischio... Ah perfetto, sì... Però ma facciamo un macella, hai visto che roba? Siete quotate allora, scusa... Però la sicurezza hanno chiamato... E basta! Scusa, la deformazione... Ma tu sei malata? Vabbè, niente... Ma io cercavo Fabrizio, Fabrizio non si vede, penso proprio di no... Ma che c'ha un uomo? Ma che c'ha un uomo? Chi è Fabrizio? C'ha un uomo? Fabrizio, è Fabrizio, è Bixio di Fannimone... Ma adesso lo perde, com'è il carruccio? Oh mamma mia... Senti, io direi... Ma si, è della mia misura? Te la metti in televisione? Ah, me la metto, dai, me la metto... Ciò stai giurando? Ve lo sto giurando... Ciò stai giurando, sorella... Prossima puntata... Allora aspetta... Oh, vado qua, vado... Eh no, io sto a destra, la tua manca... Sì, mi sta da mettere in mezzo... Mi va a carezzare un pochetto... Con poco rossetto, però... Che temo di, che temo di, dai, chi temo di, dai... Dai, chi temo di, dai... Vabbè, viva le Calipo Girl... Ci piace... Antica, vabbè... A me mi piace... A me te piace... A te? Te piace... Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa... Andiamo a vedere che cosa avete combinato qua, eh... La paura, te stimo, sorella... Namo, 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 namo... Non ti stimo, una cifra... Dato ora, il Romina... Vedi, so quelle de ostia... Chiedegli l'autografo e na foto che te costa... Oh, sai che a Barberini c'era un nano di un cinese... Che gli chiedeva firma... Tutto il mondo qua è paese... Se so bevuta birra... Se so piate il Calipo... E adesso so famose... Li mortacci del Ziobipo... ma quale estetista ma quale lavorare non sarà nuove linee per romina d'aostia legate per noi santa romina prega per noi santa depora della straia che ha fatto il ciccio c'è scavaggio da piccolo guarda scavaggio 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 e poi battiamo le macchie mi ricordo un po' di male batte male eccoci amore 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 venite la struzione dai la struzione dai la struzione vabbè forza di sopra stiamo registrando lì e là eh uno due tre calipo applausi 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 da questa parte 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 guarda che pelli che c'ha sul petto è schifo papri come che è schifo è schifo copri qui i pelli anch'io calipo girl ti piscio brava te piscio anch'io piscio da dove ti piscio da dove ti piscio da dove ti piscio anche noi vi pisciamo eh quando ce l'ho aggiungete se è facile te piscio sei te piscio ok sei te piscio e ora te piscio te piscio grazie un'era di spiegare te piscio grazie non c'è stato un gruppo di pace si che c'è stato no se ti piscio ma io metto i dispociati pure voi queste sono dispociate ma che dispociate ma non c'è dispociate ma non c'è dispociate però questa è madre da te piscio 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 noi te pisciamo te piscio te piscio te piscio euerio mi молим null tratar facci vedere un po' ma rubi o lei ha rischiella D'Ebiscio D'Ebiscio ma dicevo forte Runi D'Ebiscio più forte pure te D'Ebiscio 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 grande bella coppa D'Ebiscio 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 Ed eccoci qui amici finisce il servizio dedicato alle stranezze sul web beh pensate oggi sono venuti a trovare in questa splendida location, niente proprio di meno che le Calippo Girl, in anteprima proprio abbiamo visto delle cose. E comunque io, devo dirti la verità Ettore, la prossima volta se mai dovessero tornare a fare follie, io mi dissocio eh. E comunque non mi resta che darvi appuntamento alle prossime stranezze che scoveremo per voi sul web. Ciao!